Ma niente, purtroppo ieri sera abbiamo dovuto constatare che quello che diciamo ormai da due anni con tutti gli altri sindaci si è manifestato. Ci viene a mancare l'acqua che è un bene primario che sicuramente non favorisce la crescita del turismo, anzi dà una spallata definitiva a tanta tanta gente di non frequentare più i nostri posti. Sono anni che chiediamo dei tavoli concertativi tecnicamente, giuridicamente validi che possano farci traguardare temporaneamente la situazione per trovare poi delle soluzioni definitive. Continuiamo a chiedere questo, è l'ultimo grido d'allarme che io e i miei colleghi abbiamo voluto fare, dopodiché non vediamo più il motivo di partecipare alla realtà di Riviera Acque. Continuiamo a pensare che Riviera Acque debba esistere, ma noi ci sentiamo talmente inutili nel discorso globale, quindi di fatto personalmente non parteciperò più a nessuno tipo di assemblea di Riviera Acque.